Devo manifestare la mia delusione per questo incontro laconico con un ministro che è amico, mio concittadino, con cui abbiamo fatto imprese comuni. Non ho mai visto un ministro più defilato, io non ho letto interviste, in un momento in cui è necessario ribadire con forza che le testimonianze della cultura italiana, le mostre, gli spettacoli dal vivo e all'aperto non devono essere ultimi. E' chiaro che è inutile aprire biblioteche, librerie, qualcosa ovviamente meritoria perché vuol dire che la cultura non è l'ultima cosa, però è bene che quando si apre tutto sia aperta anche la cultura. Ho fatto un appello che quando feci l'appello per il Palazzo dei Diamanti a Ferrara otteni 40.000 firme in tre giorni, questa volta mille. Evidentemente la gente è talmente impaurita e anche noi qui viviamo come se fossimo nelle catacombe che hanno paura di dire di sì anche all'idea di fare una mostra sperimentale. C'è la mostra di Raffaello che è costata 4 milioni di euro, che muore senza aver visto nessuno, c'è la mostra di Canova, sono le cose più importanti. Lui deve essere più presente, più forte, deve gridare il primato della cultura. E non perché è utile, perché porta pill, ma perché fa parte della nostra vita, è vitale come la salute. Ed è ridicolo avere i capolavori più straordinari di Raffaello e non vederli. Allora io credo che come si va al supermercato con la mascherina per prendere chinotto o patate, uno potrà andare attraverso un principio che va impostato adesso. Quindi sedi importanti, in questo caso Parma, Ferrara, Venezia, Firenze, Roma, con mostre importanti o non ancora aperte o chiuse, che consentano di entrare a gruppi di 10 ogni 10 minuti. Ma non riesco a capire perché una cosa come questa deve essere interdetta dalla paura. Dovremmo tornare alla normalità, pensare che questa influenza è stata letale anche perché la scienza, il comitato tecnico-scientifico non ha dato risposte, non ha dato prova di avere un dominio sulla nostra vita senza avere alcun dato certo. Non possiamo essere schiavi di quattro medici vanitosi che dicono un giorno una cosa e un giorno un'altra. Burioni, il capo di questa cricca, diciamo, papalista che domina più del Papa, sa che Dio vuole che preghiamo in casa e il 5 febbraio ha detto mai arriverà un'epidemia. Belle idee chiare. La politica non deve essere subordinata alla scienzocrazia. E allora io credo che Parma, capitale italiana della cultura, le mostre di Canova, le mostre di Raffaello, abbiano bisogno di un ministro vivo, presente, non una persona gentile, sensibile, che dice faremo, subordineremo, chiederemo. Ma che dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere che la cultura e il supermercato siano cose diverse? Dobbiamo chiedere che per andare a comprare qualunque cosa io possa entrare in un posto, non posso andare in un museo che sono in gran parte vuoti? Quanta gente va al museo di Bassano o alla Galleria Spada? Di cosa hanno paura? Non siamo qua noi adesso. E che immagine è un Parlamento che ha chiuso la porta di Montecitorio e chiuso la porta di Piazza Parlamento? Che ridicola cosa è? Siamo qua con la paura di che cosa? Allora non dico che uno deve essere un negazionista, come io sono stato agli inizi, ma neanche essere terrorizzati. Neanche essere terrorizzati e aver paura della cultura. Le mostre, che sono il settore più evidenziato in maniera molto intelligente da Mollicone, sono state chiuse prima ancora di aver aperto. Sono occasioni straordinariamente perdute. Ecco perché io credo, chiedo che l'amico Franceschini, che è stato anche per i terremoti, perché Ferrara, voi vi ricorderete, ha avuto un terremoto. Tutte le chiese sono chiuse dal 2012, senza coronavirus. Non è sopportabile che uno, non è che devi temere il conflitto di interesse di Renzi o della Boschi perché ti occupi della banca di casa tua. Occupiti delle chiese, dei musei di casa tua. Ferrara grida. Ferrara, Ferenze, Venezia. Venezia è chiusa da due mesi. Ma com'è tollerabile? Perché cosa? Perché non posso camminare e qualcuno mi dice che andare all'aria aperta è pericoloso. Non è pericoloso andare all'aria aperta. Non è pericoloso. È più pericoloso stare in casa se uno porta in casa il virus che aveva concepito nel corso del tempo. Quindi chiedo maggiore presenza della cultura. Un ministro che abbia forza, che stia al primo posto, a fianco del ministro della Sanità. Che questo è un ministero di sanità delle menti. Altro che online, internet. Bisogna entrare nei musei a numeri contingentati con una riposta nuova che è quella appunto di fare un'offerta. Compri il biglietto prima e vai dieci alla volta nelle sale a distanza di un metro. Come siamo qua. Oppure stiamo a casa anche da qui. Non dobbiamo vivere nella paura. Ecco questo volevo dire all'amico. E poi anche c'è un tema piccolo che riguarda l'orchestra di Ferrara a Bado che deve agire e non ha più una lira. Non puoi dare 130 milioni di euro quando hai 560 milioni di euro perduti delle biglietterie, dei musei soltanto e delle mostre. È grottesco. Dobbiamo essere nella cultura in prima fila. Senza paura.